Noi oggi non siamo oggi, siamo quasi un po' domani, perché il futuro noi non lo attendiamo, non aspettiamo che arrivi, lo progettiamo, lo costruiamo, lo realizziamo un po' alla volta. Questo è il podcast Inside WMF, il futuro un po' alla volta. Bene, possiamo iniziare. Cosa ci beviamo? Io e te ci beviamo? Un bel bicchiere d'acqua. Oh, l'acqua, che mi sembra. Ok, visto che ho bevuto di tutto, io mi verso un po' d'acqua. Salute. Buon festival. Allora Ingrid, prima di iniziare ti faccio il quanto ne sai del WMF, un quiz che ha due domande. facili, facili. Poi ognuno sono indicate per voi. Tanto lo registrare tutto insieme e quindi non sappiamo, voi non sapete esattamente quali sono queste domande, ma sono quasi tutte diverse. Ok. Quindi la prima domanda che ti faccio è quando è che la sala plenaria diventa main stage? Nel 2018. Nooo. Come no? No, quindi devo fare guarda qua che ho messo il sonno. 2019. 2019. Ti stupisce questa cosa? Sì. Secondo me questi due anni ci siamo dimenticati di tante cose. Senti, invece ti faccio la seconda domanda di quanto ne sai del WMF. Vai. E questa è un po' più stronza. Quando è la prima volta che nella grafica del WMF, nell'Eader, nella comunicazione, incomincia a comparire la città. Una città, una… Allora, considerando che io sono arrivata qua nel 2016, c'era già una città nel 2016, poi che io l'abbia fatta più bella nel 2018… È un altro tipo di discorso. È un altro discorso. Però c'era già. C'era già. Esatto. Quindi bravo che stiamo facendo l'applauso. Era già. Era proprio l'anno prima e avevamo messo questa grafica. Allora, dato per dare un po' di contesto, come faccio con quasi tutte le persone, qualcuno poi l'ho presentato in corso d'opera, Ingrid, tu sei la persona che ha dato un'identità grafica al WMF. Cioè, più di così, non saprei come descrivere il tuo enorme impatto su questo evento. Hai dato proprio l'identità grafica. L'hai fatto quell'anno che sei arrivata, ma da quell'anno che sei arrivata hai impattato sempre e ogni volta che c'è un'apertura, un header, un'icona, un qualcosa, c'è la tua firma. Anche se non c'è scritto Ingrid, c'è la tua firma. Si vede. Ok. E qua si… sei un artista. Questa sarebbe stata la mia domanda per te, in realtà. Ah, sì? Sì. Eh beh, te la puoi… Ah, sai che c'è una domanda per me? No. Te l'hanno spoilerato? No. Cioè, mi ero immaginata che dopo che tu mi avessi fatto le tue domande… Me ne volevi fare una tua a me. Sì, ti volevo chiedere proprio perché appunto il mio lavoro non esiste senza l'occhio degli altri. Ah, ok. Volevo proprio sapere… cioè, volevo capire che cosa vedono gli occhi degli altri quando ci sono le mie cose. Ok. perché penso che in generale il lavoro del graphic designer sia un po' dato per scontato perché ci si aspetta che un evento, un advertising, quello che è, sia corredato da qualcosa di visuale e molte volte penso che tutta la progettazione, tutto il lavoro che c'è dietro a determinate cose, ci si dimentica che è frutto di studio compromessi eccetera eccetera. quindi la mia domanda per te sarebbe stata che cosa vedi… Esatto, ti puoi giocare a una seconda domanda perché io vedo Ingrid, ed è una cosa comunque molto… cioè, è incredibile, diciamo che non è scontata, cioè non è che tutti quelli che fanno i graphic designer… No, infatti ho un ricordo vividissimo dell'accademia, una delle primissime cose che mi sono state chieste a una lezione di graphic design, cioè a me e a tutti gli studenti che erano in aula, secondo voi è meglio essere riconoscibili o versatili? Penso che io mi sono risposta. Sì, 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 quindi assolutamente si vede e quindi è riconoscibile, è riconoscibile, ma sei anche versatile però è un'altra cosa questa, è un'altra caratteristica. Senti, iniziamo con il nostro podcast e facciamo la prima domanda, che questa domanda è uguale per tutte le persone, per quasi tutte le persone e la fa Cosmano, quindi ce lo ascoltiamo. Per te il WMF è un progetto lavorativo o un progetto di vita? Ora, giusto per darti un po' di contesto, non è né un quiz perché siamo entrati nel podcast, né una risposta corretta, né niente che viene… se io mi segno quale cosa ogni tanto che mi vedi che segno robe e che mi sto segnando tempistiche, quindi sei libera di rispondere. Come e quanto vuoi. Ok, allora, personalmente no, non è un progetto di vita, è un lavoro che faccio anche abbastanza con piacere perché la missione del WMF comprende tante battaglie e tanti temi che riguardano la mia vita, però io non sono proprio come indole il tipo di persona che fa diventare i progetti a cui lavoro progetti di vita, per me sono e saranno sempre due cose distinte… Separate. anche perché il mio lavoro, nello specifico, per me è come se fosse un lavoro di traduzione. Ok. Nel senso, le idee di solito ce le mettete voi e io con il linguaggio che ho imparato nel tempo, che è un vocabolario fatto di immagini e iconografia, lo traduco in qualcosa che poi si vede. Sì. Quindi, personalmente, per come funziona il mio lavoro, faccio fatica ad affezionarmi tanto ai progetti, tanto da farli diventare parte della mia vita. Parte della tua vita. Poi, ovvio, passo il 90% del mio tempo qui, quindi nel senso sì, ma parte anche della mia vita. Ok. Però no. Ok, chiaro. Seconda domanda, qual è il ricordo che tu hai del WMF più forte? in senso positivo o negativo? Allora, aspetta, aspetta, aspetta. No, io non ho altre domande simili per te, quindi come lo intendi? Puoi dirmi le entrambe, se ce le hai vero, se le vuoi dire? Sì, ce le ho entrambe. Allora, vai. Allora, il ricordo più forte in assoluto è quella volta in cui era il 2018, era il primo anno che mettevamo in piedi il headwall nel main stage. non sapevamo niente. Niente. E eravamo stati affiancati da tecnici di regia un po'... Ok. Era... Ok. Anche magari per loro magari era una delle prime volte. Sì, sì. Ma poi è successo una sorta di... Ok. Non si è capito benissimo. Ci avevano affiancato una risorsa che poi non è tornata nei giorni dell'evento. quindi noi abbiamo fatto giorni di prova con una persona molto preparata. E poi... E il primo giorno di evento mi sono trovata... Una persona che magari non era il suo lavoro. Esatto. E quindi siamo andati tutti un po' nel pallone. Ah, ok. E io, ovviamente, nei giorni di festival non continuo il mio lavoro di disegno perché tecnicamente il festival non esisterebbe se io non avessi già fatto il mio lavoro, quindi mi trasformo. E così come Lisa diventa assistente di palco fondamentalmente, io aiuto la regia tecnica che si occupa di mettere i contributi eccetera eccetera. Quindi io sono stata catapultata improvvisamente in questo mondo di uomini grossi e sudati. Ah, ok. E io ero piccolissima, cioè se pensi che... E dovevi dirigere, tra virgolette. Esatto. Cioè il 2018 era quattro anni fa, adesso ho 27 anni, quindi ne avevo 23. Questi uomini dai 40 anni in su, tutti superprofessioni. Cioè nel senso che avevano questo lavoro da tanto tempo e io arrivavo fuori dal nulla che dovevo comunque fare da tramite. Mamma mia. Mi hanno fatto piangere. Ok. Perché l'avranno detto anche i miei colleghi prima di me. Cioè il WMF poi è velocissimo, pieno di contenuti, pieno di roba da fare. E arrivavano cose all'ultimo secondo e questa cosa per la regia era assolutamente inconcepibile. E giustamente io ero il messaggero e portava i messaggi di Cosmano. Ok. Che dovevano diventare poi scenografia. E mi hanno urlato in faccia. Ok. Vabbè questa cosa l'abbiamo risolta poi? Sì, adesso siamo molto amici. Adesso siete molto amici. Sì. Siamo compagni di bestemmia. Ok. Mi fa piacere. E quello positivo? Allora quello positivo cioè è una cosa unica che però ho vissuto in modo diverso in due momenti diversi. Ok. La prima è stato uno dei primissimi anni in cui io ho preso proprio totalmente la guida del reparto grafico e poi vabbè sono solo io quindi. Però quando ho smesso di lavorare con elementi grafici ereditati dal passato quindi quando è tutto passato in mano a me è stato vedere le persone interagire con il mio lavoro. Ok. Cioè vedere le persone arrivare in un luogo pieno di cose fatte da me, tenere in mano cose fatte da me è una sensazione strana che non so forse tu la puoi capire visto che hai scritto anche dei libri. Cioè quando pubblichi un libro no? Appena cominciato ad andare in mano alle persone è diverso. Ah sì. Sì è diverso. Quindi è stata un po' quella sensazione lì che poi è diventata, si è un po' evoluta l'anno scorso quando ero nel main stage che aspettavo la prossima sessione di prove avevamo appena finito una trasmissione e ho beccato Aurora di The Jackal che si faceva i selfie sotto il mio disegno perché la ragazza che avevo disegnato le somigliava. No vabbè bellissima questa, bellissima. Sì. Che bella cosa. È stata proprio una super evoluzione capito perché prima semplicemente vedi le persone interagire e farsi selfie con le tue cose e poi capisci che quello che hai fatto ha colpito qualcuno non solo perché è venuto all'evento ma perché ci si è riconosciuto dentro. Sì. Mamma mia che idea tra l'altro che mi stanno vedendo su sta cosa. Penso se inizi a fare con il tuo stile le persone che vengono al paese cosa succede. No. Non dico niente, questo podcast non lo ascolterà. Cosmano non glielo facciamo ascoltare. Esatto. Senti ti faccio la terza domanda. Qual è la cosa invece più difficile? In che senso? Si accettano paracce. Più difficile da fare, più difficile da fare. Ma in generale… Sì per il WMF e per… Raccontarlo. Cioè non come evento che succede e fa il suo corso e succedono cose durante quell'edizione è proprio raccontarne il concetto. Cioè prima ti ho detto il mio lavoro è un lavoro di traduzione. sì. Quali sono le forme, i colori, l'immaginario, i concetti che io posso legare a quello che è poi il WMF? Eh. Quella è la cosa più difficile. Quella è la cosa più difficile. perché alla fine non c'è… cioè fondamentalmente non c'è niente di concreto. Ok. Siccome lavoriamo con il futuro, il futuro… Non c'è. Non c'è ancora. Lo vedi? Lo costruiamo un po' alla volta. Esatto. Senti invece, cos'è che avresti voluto fare e non farai? Per questo festival? Sì. Per questo festival? Sì. Tante cose. Non è una domanda facile perché purtroppo andiamo molto veloci, siamo sempre di corsa e il mio lavoro è un lavoro che richiede tanto tempo perché appunto devo trovare le forme giuste, la metafora giusta, la storia giusta da raccontare e tutto quello che si potrebbe fare con gli strumenti che ho io a disposizione non è realisticamente fattibile. Ok. Proprio perché la linea grafica del WMF alla fine racconta una storia e questo succede ogni anno, non riesco mai a raccontare la storia. Ok. Questa è una bella cosa. Cioè è brutta, però è una bella cosa. Riesci a raccontare una storia parziale alla fine. Sì, esatto. Però posso dirti una cosa che nonostante tu riesci a raccontare una parte della storia, comunque sia questa storia che tu racconti si vede. Cosa che in altre tipologie di eventi che hanno delle identità grafiche o che ci copiano o che comunque tentano di farle, sono sempre disegni buttati là e appiccicati. Mentre la tua comunque so che cosa hai in testa, però... Quello che ho cercato di fare io con il WMF non è stato... ok, cerco un simbolo del futuro. Perché è facile associare il futuro allo spazio, all'esplorazione spaziale, astronauti, fantascienze, eccetera, eccetera. Ci viene anche un po' scontato. Quindi ok, sono partita da lì. E io penso che molti eventi simili al nostro, che parlano di innovazione e di futuro, cadono un po' in quella cosa lì. La mia fortuna è che la narrazione del WMF non è partita subito dal futuro. Cioè è partita da terra, da quello che avevate voi intorno, dal mondo del digitale che cresceva insieme a voi. Quindi già il fatto che io sono arrivata e c'era una città ha reso lo storytelling del WMF molto più semplice perché noi non ci siamo trovati per caso nell'ambiente spaziale. ci siamo arrivati, partendo dall'uomo che aveva una città digitale intorno a sé, voleva esplorare quello che c'era intorno, quindi lo spazio che è di più, imparare il più possibile dalle sue esplorazioni per poi idealmente tornare indietro alla città e renderla migliore di come l'aveva lasciata. Sì, è proprio una metafora di vita comunque. E speriamo che questa idea che hai dentro venga anche rappresentata, se non quest'anno fortemente con piccoli elementi, speriamo che l'anno prossimo magari. Sai che c'è, Davide ha raccontato che Ignaritu, il regista di Revenant, ha vinto un premio, stanno nascendo premi, su quella che è un po' difficile definire, però io chiamo Mixed Reality, ovvero lui ha creato un ambiente in cui tu camminavi e potevi rivedere cose. Penso che l'abbia fatto non con la realtà aumentata, ma proprio con la Mixed, però vabbè, al di là di queste cose qua. E credo che sarebbe molto bello questa metafora che hai descritto un giorno con la tecnologia, arrivare a fare l'entrata del boom F in questo modo qua, anche perché è una metafora di vita, come ci dicevamo. Sì, esatto. Ci staremo provando, in teoria, a trasportare tutto questo storytelling visuale anche nella fiera, che purtroppo è un luogo nuovo, che non conosciamo ancora a fondo. Dobbiamo prendere le misure. Dobbiamo esplorare anche la fiera, oltre che al mondo degli innovanti. Quanto è una super metametafora questa. Esatto, esatto. Quindi ci arriveremo, speriamo. E questa, tra l'altro, è una di quelle cose che mi sarebbe piaciuta fare. Ok, è che speriamo, insomma. Di poter fare in futuro. Esatto. Quinta domanda, qual è la tua notte più lunga? Che hai vissuto. Tutte le notti del festival. Ce n'è una in particolare? Una in particolare no, perché facciamo quasi sempre notte. Tra l'altro, a questo proposito, ho un altro ricordo bellissimo. Nel 2019, Mirko, che è il nostro collaboratore, che adesso non lavora più con noi, venne da me e mi disse «Oi, sono passati quelli di la 7, mi hanno chiesto qual è l'agenzia grafica che ci cura gli allestimenti». E io ho risposto che è una sola ragazza che non dorme dalla settimana. Esatto, ecco la notte più lunga. Esatto. La notte più lunga. Una settimana. Esatto. Senti, domanda numero 6. Che cosa ti aspetti quest'anno? Di sopravvivere. Sì, vorrei dire altro, però in questo momento la mia grande speranza è semplicemente quella di riuscire a farcela senza stancarci troppo. Ok, che è un'impresa, però ci proviamo. Senti, invece c'è qualcosa che ti fa paura quest'anno? Visto, è legata… Tutto. 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 Mi fa paura la quantità di cose che, ok, potrebbe essere… cioè è bellissimo che ci siano tante cose. Io sono da sola, adesso sono affiancata da un altro collega che è bravissimo e sta tenendo il passo benissimo. Bene. Ma siamo comunque soltanto in due. C'è poco tempo. Questa cosa di essere dei supereroi, perché qua dentro ogni persona, non dico tutte, 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 perché sarebbe infattibile, però tante persone da sole fanno il lavoro di tante altre. Esatto. È un'arma a doppio taglio. Esatto. Quindi sì, questa cosa mi spaventa da morire, quest'anno come mai? Poi, vabbè, tu lo sai, probabilmente chi ci guarda no, io sono la classica persona con i piedi estremamente per terra, quindi là dove voi volate con la fantasia, io sono sempre a dire… Ebbè, serve un bilanciamento, un equilibrio. Esatto, da grandi poteri le tivano, grande responsabilità. Esatto. Però penso che questo sia il primo anno in cui ho veramente paura. Ok. La fiera fa questo effetto. Horror vacui. Ci sta. Senti, ma in tutto questo hai un'ambizione proprio legata al WMF? Che può essere sia un'ambizione personale o anche un'ambizione del WMF? Diciamo che al WMF auguro di riuscire davvero ad essere quel qualcosa che aiuta le persone a capire qual è la direzione giusta da prendere. Ok. Secondo me abbiamo ancora un po' di lavoro da fare e alcuni temi dovrebbero essere trattati un po' meglio, banalmente penso alla sostenibilità, per esempio, anche e soprattutto perché l'industria degli eventi è una delle più impattanti. Impatta. Quindi ci proviamo a impattare di meno. Esatto, però sì, questo, cioè auguro al WMF in generale come grande macchina di essere vessillo di miglioramento. Mi sembra una bella ambizione questa, mi sembra una bella ambizione, che si collega alla penultima domanda, credo di averle fatte tutte, mi hai fatto un attimo distrarre perché viaggio un sacco, ce la fa Cosmano questa domanda, quindi ce l'ascoltiamo. Vai. Lavorando alla costruzione del WMF, a quale delle 12 sfide del futuro stai rispondendo? Aia. Le 12 sfide del futuro, se vuoi ti contestualizzo la domanda. Sì, sì, no, le conosco e mi riallaccio a quello che stavo dicendo prima, l'universo degli eventi purtroppo è molto impattante, quindi io non sono sicura che col mio lavoro, nello specifico, sia davvero contribuendo ad andare incontro a queste 12 sfide del futuro, perché purtroppo il mio lavoro è quello più direttamente coinvolto nello spreco, perché, come dicevo anche all'inizio, non buttate la carta che io vengo a prendere. Il mio lavoro è quello un po' più penalizzato, perché è quello che dopo tanta fatica ogni anno viene buttato e questo non contribuisce né alla mia autostima, né appunto alla sostenibilità, cioè tutto il forex che utilizziamo, tutta la carta che stampiamo, ma banalmente tutta l'aria condizionata che ci spariamo nel main stage ogni anno ha un impatto. Però credo che comunque, nonostante questo, nel nostro piccolo, in qualche modo stiamo cercando di fare qualcosa a livello di inclusività, a livello di empowerment femminile, cioè c'è ancora tanta strada. Credo che, poi, io non ho visione di molte cose, non so quanti speaker avete coinvolto nello specifico, non conosco le percentuali, io magari vedo quelli del main stage e sono sicura che potevamo coinvolgere molte più donne di quelle che sono state coinvolte, molti più giovani di quelli che sono stati effettivamente coinvolti, però piccoli passi, direi. Cioè, ne abbiamo mossi già tantissimi in pochissimo tempo, veniamo da due anni pazzeschi, non ci siamo fermati un attimo, non ho la pretesa da noi di essere super virtuosi No, certo. Da zero a cento. Da zero a cento. Anche perché ogni tanto qualcosa devi mollare per forza. Esatto. Sai, su questo tema dell'empowerment femminile, non solo ci lavoriamo, ma proprio da tanti anni si fa questa cosa. Dico una piccola cosa, giusto, per condividerti, che secondo me è bellissima. Io sono un po', cioè, siccome lo faccio da tanto tempo, lo faccio da quando abbiamo aperto il forum. Non subito, ma dal primo anno. Perché appena abbiamo aperto il forum c'erano troppi uomini. E questa cosa per me era sbilanciata. E quindi ho iniziato a fare una campagna per avere moderatrici. E siamo il primo forum e ancora probabilmente l'unico, o comunque ce ne sono pochi, che c'è l'etichetta moderatrice, non moderatore. E questo non perché la moda c'è in posto di che bisogna. E ti dico che ho una doppia difficoltà in questa cosa. Al di là di quelle personali che ognuno di noi ha, anche perché tipo il team didattica è composto da tre donne. Ma noi in azienda probabilmente siamo molte più donne che uomini. Sì, solo il team sviluppo è quello che è inferiore. Esatto. Le donne sono il team, gli altri sono tutti... Ti racconto questa cosa, l'advanzazio tool, che è un evento molto tecnico. Quest'anno abbiamo cambiato format, per esempio. Cambiando format ho invitato attualmente tra... Non ricordo il numero preciso, però le ho superate. Tra le 15 e le 20 donne. Sto per fare anche un altro tipo di contributo su un'altra cosa e anche lì ho invitato un sacco di donne. Sai quante call abbiamo tra le 15 e le 20 donne che hanno risposto di sì e che l'hanno fatta? No. Due. Ok. Ho invitato meno uomini, mi hanno risposto tutti. Questa è una difficoltà che ho, personale, perché non riesco, per esempio... Però ci sto dietro, però poi convinco e poi alla fine sono sicuro che avremo un buon bilanciamento. È un argomento tecnico, la SEO tecnica, neanche la SEO in genere, che già su questo abbiamo fatto dei passi avanti. E ho una difficoltà. L'altra difficoltà che ho e che sto indagando, sto cercando di comprenderla nel modo più ampio possibile, è che questa suddivisione che stiamo facendo, al di là che non mi piacciono le suddivisioni, ma al di là di questo, sia basata, ed è questa la questione, sul sesso biologico. In che senso? Nel senso che tu presumi che quella persona sia donna, si sente donna. Facendo questa suddivisione, tipo prendi gli speaker, no? La pagina degli speaker e delle speaker. Sì. Relatori e relatrici. E uno dice, facciamo una suddivisione, uomo-donna, ma è una suddivisione biologica, perché noi non chiediamo cosa... Certo, dovremmo. Dovremmo, o no? Dovremmo, sì. È un tema... Ma... Vabbè, è un tema molto complesso, però la direzione è quella. Sì, nel senso che sia un qualcosa di complesso da affrontare... L'importante è affrontarlo, secondo me. ...in tantissimi modi. Per esempio, faccio un altro esempio stupidissimo. Quest'anno abbiamo fatto, come ogni anno, la campagna di San Valentino. Sì. Per mancanza di tempo non siamo riusciti a fare nulla di molto nuovo. Avevo un'illustrazione dell'anno scorso che poteva riadattarsi facilmente, solo che avevo rappresentato... Il personaggio principale dell'UMF è un omino. Cioè, mai specificato, nessuno gli ha mai controllati i genitali, perché non sono neanche stati mai disegnati. Però diciamo che è una figura umana dai tratti maschili e poi dall'altra parte c'era una figura umanoide, perché è un alieno, dai tratti femminili. Ok. E a un certo punto, dopo che avevo preparato tutte le grafiche, è sorto il dubbio a qualcuno, dicendo, ma non sarebbe bello fare la grafichina con due uomini e due donne e l'uomo e la donna. E io lì mi sono chiesta, ma chi ci ha mai detto che quello mino è un uomo? Esatto. Chi ci ha mai detto che quell'alieno è un'aliena? Lì apri tutta la questione del transgender. Però è bello, l'importante è che si apra, secondo me. Sì, no, il dibattito è... L'importante è che si apra anche a questo livello, secondo me. Sì. Va bene, senti, ci facciamo un'altra puntata su questo. Senti una cosa, l'ultima domanda, siccome si ribaltano i ruoli, già lo sai perché l'hai detto all'inizio, qual è la domanda che tu vuoi fare a me? Ok, difficile. Cosa ti è stato chiesto? Di tutto, davvero di tutto. Ma nessuno ancora mi ha fatto la stessa domanda di qualcuno che me l'ha fatta prima. Ok. Ok, ok, ok. Allora, ti chiedo. Io ti ho raccontato la storia che mi immagino dell'UMF. Sì. Quindi l'uomo, quindi il nostro omino ideale, che dalla sua città digitale prende parte, raccoglie tutto quello che può raccogliere, fa le sue esplorazioni e poi torna indietro. Ok? Se io non te l'avessi raccontata e avessi dovuto solamente guardare l'ultimissima illustrazione che ho fatto e che non so se il nostro pubblico ha già avuto modo di vedere pubblicata da qualche parte. Non credo. Non lo so. Se abitano a Bologna ci sono i cartelloni. Se abitano a Bologna, Roma o Milano ci sono i cartelloni. Esatto. Però se tu dovessi averla vista... Sì, l'ho vista. ...senza conoscermi, senza avermi mai sentito parlare, che cosa... che storia pensi che racconterebbe? Quella grafica, quella illustrazione che tu hai fatto, secondo me è un'illustrazione che racconta la profondità. Cioè io la vedo come una cosa che racconta la profondità della visione di una persona su quello che è il futuro. Anche perché è accompagnata dal copy. E quindi il copy, comunque sia, mi ha furviato. Non è che mi ha furviato, però o ha completato o magari ti porta fuori o hai centrato. Perché il copy di quel messaggio lì è più di un festival, è il futuro. E quindi secondo me l'illustrazione con questo copy sta dicendo che stiamo dando uno sguardo profondo, non superficiale, su quello che è il futuro. E in quel caso il futuro dell'ambiente che hai ideato. Chi sta? Questo è. L'accetto come risposta. Ti faccio un'ultima domanda. Vai, sei libera. Allora, tu lo sai che io non amo queste situazioni. Sì. Sono sempre quella di scarpare alla telecamera. Sì. Quindi adesso... Ti sei divertita però? Sì. Ok. Ma... Ma... Te ne scappi. Questa mia disponibilità ha un prezzo. E qual è il prezzo? Sei disposta a pagarlo? Eh, dipende dal prezzo. Qual è il prezzo? Domani... Ok. ...fai un pranzo vegano. Ah, va bene. Va bene. Ma andiamo insieme? O lo faccio da solo? Te devo mantenere la promessa? Ce l'hai già il pranzo? Se vuoi andiamo insieme. Va bene. Allora andiamo insieme. Ti porto un ristorante vegano. Va bene. Accetto. Va bene. Farai anche tu il tuo primo pasto verso un futuro più sostenibile. Non è il mio primo, sai. Ti potrei sorprendere. Vabbè, il secondo. Il secondo, va bene. Ok. Grazie Ingrid. A te Giorgio. E a questo punto auguriamo a tutte le persone che verranno buon festival. Questo podcast è stato realizzato dal team di Search On Media Group. Io sono Giorgio Taverniti, la voce narrante di questo podcast. La realizzazione tecnica è a cura del team di Ibrida.io, con la coordinazione di Roberto Riglia, la direzione della fotografia di Davide Natali, la regia tecnica di Andrea Dragotta. La supervisione del progetto è a cura di Rebecca Veri. Grazie a tutti.